Alvia il Bando a favore delle imprese che ospiteranno percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il Bando, pubblicato dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena, prevede infatti la concessione alle imprese di un voucher di 600 euro per ogni studente della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale ospitato in azienda per un percorso di alternanza scuola-lavoro di almeno 40 ore. 600 euro per ragazzo, per studente delle scuole superiori ospitate fino a un massimo di 3 studenti all'anno, quindi un massimale di 1800 euro. È un'opportunità che noi diamo agli studenti di fare un percorso formativo in azienda, all'azienda diamo la possibilità di portare una linfa nuova in azienda. Questo è un percorso che a nostro avviso consente ai ragazzi di respirare il clima dell'azienda, di rendersi conto in anticipo di ciò che li aspetterà nel mondo del lavoro e i risultati di tutti questi anni di formazione on the job, di learning on the job ci danno un riscontro positivo. I ragazzi che vanno in azienda a fare questi percorsi hanno una chance in più domani quando si presenteranno nel mercato del lavoro. I soggetti iscritti al registro imprese e al RAI devono avere la sede legale o l'unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Arezzo Siena, tra i requisiti richiesti alle imprese, inoltre per poter presentare domanda dei voucher via l'iscrizione gratuita al registro alternanza scuola-lavoro istituito presso l'ente camerale.